va bene imbarba alla moda ragazzi questa ripresa fa veramente schifo ma schifo hello amici finalmente sono tornata con un nuovo video mi sono presa qualche giorno di vacanza da youtube ma finalmente rieccomi innanzitutto la location come vedete è diversa perché al momento sono a casa mia e ci sono bloccata da tre giorni per colpa della neve è vicino a Padova l'Islanda l'Islanda non è vicino Padova l'Islanda è vicino Bari in questo momento l'Islanda è vicino Bari e continua a nevicare è un po' disagevole mettiamola così quindi non sono potuta andare nel mio studio a registrare non ho le luci sto usando la finestra quello che si vede si vede ma tanto anche se non si vede non vi perdete granché ma bando alle ciance fatevi dire immediatamente di che cosa parleremo oggi amici come voi avete deciso tramite i sondaggini di Instagram e Facebook oggi parleremo del rapporto tra architettura e moda parleremo di quella sottile membrana che divide queste due discipline creative ma prima a proposito di sondaggini mi tocca ricordarvi di seguirmi su Instagram e Facebook così da partecipare attivamente alla scelta delle tematiche del mio canale e tra le altre cose farvi anche un po' di fatti miei perché io sono senza pudore e quindi pubblico anche tranquillamente i fatti miei in più sono dicono una discreta fotografa e in più una strega ispirata perciò vi prometto che troverete del materiale interessante cioè almeno per me è interessante poi non lo so vedete voi inoltre vi ricordo che qui sotto c'è un pulsantino rosso cliccateci sopra per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi mai nessun video futuro grazie dunque cari amici come sarà facile immaginare l'architetto è un esteta pertanto anche se molti di noi architetti potrebbero negare questa cosa in realtà l'architetto è super attento al suo aspetto esteriore e segue spesso in maniera molto attiva ma comunque in ogni caso la segue la moda dovete sapere che quando andavo all'università nella città in cui ho studiato era facilissimo capire soltanto da un'occhiata chi frequentava la facoltà di architettura perché erano i ragazzi con lo stile più definito di tutti gli altri anche se nella città in cui ho studiato c'era anche la facoltà di lingue orientali e potete facilmente immaginare come si vestivano gli studenti che studiavano giapponese diciamo che beh erano riconoscibili anche loro ad ogni modo gli architetti sono sempre o perlomeno quasi sempre molto attenti al loro modo di vestire e badano alla qualità dei loro abiti quasi quanto guardano la qualità dei materiali da utilizzare nei loro progetti e questa cosa non ve la so ben spiegare se non raccontandovi il mio punto di vista personale ebbene amici io adoro lo stile minimalista scandinavo e talvolta anche quello coreano adoro la moda e la ritengo una forma d'arte alla pari della pittura o della scultura ho degli stilisti preferiti e sì, guardo le sfilate uno dei miei migliori amici lavora nell'ufficio creativo di Valentino e adoro ascoltarlo quando mi parla delle sue ricerche che fa in giro per il mondo e che costituiscono la base da cui nasce ogni singola collezione della maison insomma amici direi di essere una fashion addicted ma a differenza di quello che potrebbe venire in mente parlando di fashion addicted e a differenza di molte altre persone che si proclamano fashion addicted a me non piace seguire quello che va di moda mi piace seguire la moda quella vera il che è molto diverso ammetto personalmente di sbirciare nella vita di Chiara Ferragni e per quanto mi chieda ogni volta come abbia fatto in realtà a sposare Fedez che per me è ancora un mistero della vita ammiro la sua intraprendenza imprenditoriale ma posso affermare con certezza che Chiara Ferragni non può essere considerata una guru della moda lei si è vero detta delle tendenze influenzando quello che però è il mercato della moda mentre quello che piace a me è il vero concetto che sta alla base della creatività della moda le seghe mentali e le ricerche accademiche che ci sono dietro ogni collezione e il fatto che io sia un architetto penso che influisca moltissimo su questa cosa perché andare alla ricerca del concetto che sta sotto ogni tipo di progetto è alla base dei miei studi e della mia preparazione così come lo è la ricerca estetica e il voler mettere per forza la mia firma dettando uno stile molto personale tanto nei progetti quanto addosso alla mia persona ed ecco spiegato il perché molti architetti sono inclini al vestirsi bene o perlomeno al vestirsi con carattere credo che per noi sia fondamentale dare un'immagine di noi stessi molto personale e inconfondibile proprio come fanno anche tutti gli altri creativi e artisti provenienti da altri mondi che fanno parte dell'arte la differenza è puramente formale ed è il fatto che a noi piacciono le linee più semplici e le forme più pure ma questo è per formamentis ed è probabilmente per questo che molti architetti vestono di nero o di grigio e usano i tocchi di colore come una sorta di statement prendi per esempio le donne che mettono magari un tocco di rossetto particolare o gli uomini che indossano calzini di colori sgargianti o magari scarpe o papillon insomma amici conoscendo e amando l'arte in tutte le sue forme è normale per noi architetti conoscere e amare la moda ovviamente il mio è un discorso generale ci sono le eccezioni e non starò qui a specificarlo perché immagino voi siete abbastanza intelligenti da capire quando si tratti di una norma generale ok ad ogni modo amici come tutte le discipline artistiche anche l'architettura e la moda spesso si incontrano e si contaminano a vicenda abbiamo visto come la moda tocchi gli architetti e sicuramente non c'è bisogno di spiegare più di tanto come la moda tocchi profondamente l'architettura ma comunque ve lo spiego brevemente l'architettura è figlia del tempo in cui viene progettata pertanto risponde a dei canoni soggetti a cambiare con il tempo esattamente come il vestiario se poi parliamo di architettura ad interni la commissione tra le due cose è ancora più ovvia tessuti, colori, fantasie e tappezzerie che ricoprono le superfici degli ambienti abitativi sono espressioni della personalità di chi li abita proprio come i vestiti perciò della moda seguono andamento, disegno e tendenze ricorderemo tutti la febbre di Frida Kahlo che si è abbattuta come una piaga sull'umanità fino all'anno scorso il faccione e monociglio di Frida Kahlo era su tutte le magliette di tutti i negozi di tutte le città tutte le ragazze indossavano la fascia per i capelli messa a modo turbante o i fiori sulla testa e le fantasie messicane su gonne vestiti ex vuoto a forma di cuori trafitti e simboli della morte, della passione hanno decorato praticamente ogni cosa dalle mutandine alle sciarpe e se chiedevi anche alla persona più ignorante dell'universo chi fosse il suo modello di donna ideale ti rispondeva Frida Kahlo senza conoscerne assolutamente nessun aspetto di vita e opere ma conoscendone solamente l'aspetto estetico ebbene questa frenesia messicana esplosa ben presto anche nell'eredamento cuscini e tappeti dai colori sgargianti ed ispirazione centroamericana completavano il quadro di camere che come minimo avevano tutte le pareti tappezzate con carta da parati con i banani, i pappagalli e tutte le più svariate forme di vita tropicale ecco quindi spiegato in che misura la moda entra nell'architettura ma analogamente spesso è l'architettura ad entrare nella moda stilisti come Yoji Yamamoto o case di moda come Maison Martin Margiela hanno spesso preso ispirazione dalle forme architettoniche per disegnare abiti e accessori che poi sono diventati iconici la cui struttura è complessa quanto quella architettonica è la cui ricerca affonda senza dubbio le proprie radici nella storia dell'architettura non a caso entrambi gli stilisti che ho citato hanno firmato anche elementi ed accessori per l'arredo proprio per abbattere questa barriera tra le due discipline e dimostrando così quanto la figura del designer sia una figura versatile e preparata a 360 gradi in maniera molto simile Victor e Rolf fanno del concetto di struttura e decostruttivismo il manifesto delle proprie collezioni dagli anni 90 in poi ecco Victor e Rolf li ricorderei anche per la strepitosa collezione di abiti ispirati a delle famosissime opere pittoriche come se fossero stati tagliati direttamente dalle tele di alcune delle più belle pitture rinascimentali ma soprattutto a Victor e Rolf darei il merito assoluto per aver creato un precedente significativo per l'architettura di essere parte dell'identità di un brand di moda fino a qualche anno fa infatti tutti i negozi monomarca di Victor e Rolf avevano una caratteristica a dir poco singolare ogni singolo ambiente del negozio era sottosopra entrati in un loro flagship infatti vi si ritrovava a camminare su un soffitto stuccato dovendo evitare lampadari e cornicioni e se si alzava la testa si vedevano divani, poltrone e il pavimento attaccati al soffitto e va da sé che questa fantasiosa trovata era diventata un segno caratteristico della maison riconoscibile e distinguibile in tutto il mondo per lo stesso motivo citerei Louis Vuitton la casa di moda francese infatti ogni anno affida la progettazione delle sue vetrine ad artisti o architetti di fama mondiale chiunque abbia gironzolato per le vie di una grande città nel 2012 ricorderà sicuramente le splendide vetrine di Louis Vuitton e non tanto per la pelletteria quanto per i pois e le fortissime sfumature di rosso dei props disegnati appositamente per la casa di moda da Yayoi Kusama la famosissima artista giapponese e poi ancora nel 2014 sempre Vuitton farà completamente disegnare le sue vetrine a Frank Gehry blasonata archistaria americana che ha firmato anche il progetto della fondazione Louis Vuitton sempre per la casa di moda francese e sempre nello stesso anno negli scorsi video abbiamo già parlato di Rem Colas e del suo rapporto con Miuccia Prada vi consiglio di andare a vedere il terzo episodio di Supposta di Architettura nel quale abbiamo parlato di alcuni suoi progetti per i flagship store di Prada di Los Angeles e di New York ma sicuramente molti di voi non sapranno che il sodalizio tra Rem Colas e Miuccia Prada ha portato l'architetto a firmare anche il progetto per alcune delle passerelle delle collezioni della stilista milanese ma la signora Miuccia, grande amante dell'architettura ha voluto portare questa collaborazione a un livello ancora successivo chiedendo ad architetti come Colas o lo studio associato Erzog e de Meuron e ad altri grandi nomi dell'architettura contemporanea di disegnare qualcosa che non stesse semplicemente attorno o dietro le modelle ma anche addosso alle modelle e ai modelli Miuccia Prada ama così tanto l'architettura da aver permesso a questi architetti di reinterpretare alcuni pezzi storici e iconici del marchio Prada concedendo agli stessi di poterne cambiare forma e concetto rendendoli dei veri e propri piccoli capolavori di architettura ma sono tantissimi i brand che chiedono ad architetti famosi di disegnare anche semplicemente i loro punti vendita ricordiamo per esempio il futuristico negozio Armani a New York disegnato dall'italianissimo Massimiliano Fuxas ma uno dei flagship più belli di sempre probabilmente è quello di Chanel ad Amsterdam disegnato da M.V.R.D.V. lo studio danese era interpretato l'identità e i valori della maison francese in chiave architettonica la facciata è infatti una classica struttura in mattoni tipica della capitale olandese ma fatta completamente di mattoni in vetro la scelta di questa soluzione è stata giustificata dallo studio come un tentativo di mantenere un design tradizionale tra l'altro obbligatorio in quella parte della città ma dandogli una veste decisamente più contemporanea e soprattutto rendendola più funzionale la sensazionale presenza del vetro permette infatti di avere delle vetrine molto più grandi in cui risulta sicuramente più semplice esporre la merce e io in questa soluzione ci vedo come vi ho detto già prima la traduzione in chiave architettonica dell'identità del brand Chanel Chanel è infatti una casa di moda consolidata un classico intramontabile che porta con sé una tradizione vintage fatta di eleganza perle e crinoline ma che non si esime mai dal mettersi a passo con i tempi reinterpretando la tradizione sartoriale francese con materiali più innovativi e aggiornando continuamente l'idea di femminilità per una concezione più moderna in cui la donna è sì elegante ma anche attiva e dinamica insomma esattamente come la facciata di Embe Erdbe un'altra figura che sicuramente va citata in questo video è quella di Zahadid l'architetto purtroppo scomparsa qualche anno fa icona dell'architettura organica e parametrica ha ben pensato che il suo metodo progettuale fosse realtà applicabile al disegno di diversi e svariati oggetti proprio come concepiva gli edifici infatti la Adid disegnava anche scarpe ebbene sì amici Zahadid era pur sempre una donna e avendola anche vista una volta dal vivo posso confermarvi che nonostante lineamenti molto marcati e la corporatura piuttosto massiccia era una donna estremamente femminile elegante e amava vestirsi con uno stile impeccabile è un carattere molto personale ecco probabilmente spiegato il motivo della sua collaborazione con il marchio spagnolo Melissa per esempio o con Lacoste o con il visionario United Nude che insieme all'architetto hanno creato delle scarpe delle linee organiche futuristiche che sono dei pezzi da collezione a mio parere a dir poco bellissimi veramente particolari e questo perché progettare una scarpa è un po' come progettare un edificio si tratta di una struttura che va calcolata molto bene data comunque la sua complessità tra tacco, pianta e apertura alla caviglia che devono essere comodi tecnicamente perfetti ma con un'immagine di forte impatto la scarpa infatti più che moda secondo me è proprio un'opera d'architettura non a caso nel 2013 Francesco Russo, direttore creativo all'epoca di Sergio Rossi altro famosissimo brand di calzature disegnerà una collezione di scarpe col tacco a spillo ispirata alle opere di Santiago Calatrava altro esponente dell'architettura organica progettista di grandi strutture e infrastrutture come per esempio il Ponte della Costituzione a Venezia o come la Città della Scienza delle Arti a Valencia di cui abbiamo già parlato in occasione del Fanta Architettura su Doctor Wu ma anche Jean Nouvel, noto architetto francese ha firmato una piccola collezione di scarpe stavolta per la casa Rucolain si tratta di alcune sneakers estremamente minimali che portano il nome di Pure e che sono state concepite appositamente per ricordare la stretta connessione che c'è tra il disegno della moda e il disegno dell'architettura entrambi fatti di linee e geometrie per l'appunto pure e sempre a proposito di calzature e ritirando in ballo Rem Di Colas sempre architetto ma nipote del ben più noto Rem Colas vorrei raccontarvi un aneddoto piuttosto curioso per riconquistare la sua allora ragazza Rem Di Colas decise di utilizzare quella che era la sua migliore abilità ovvero quella di disegnare l'architettura ma per creare qualcosa che potesse stupire e soprattutto piacere alla sua ragazza ed è proprio così che è nata la scarpa Mobius per il brand United Nude ispirata al celebre nastro simbolo dell'infinito del divenire e della continuità ragazze Rem Di Colas è l'uomo dei sogni e il caso è chiuso ma spostiamoci ancora e questa volta in Italia casa Max Mara alcuni di voi probabilmente lo sapranno già per gli altri ci sono qui io Renzo Piano come forse sapete ha firmato la recente sede del Whitney Museum di New York storico museo d'arte contemporanea all'interno della Grande Mela Luigi Maramotti, patron di Max Mara poiché il suo brand è partner del museo stesso e dato che lui personalmente ha più volte prestato delle opere al museo ha chiesto allo stesso progettista dell'edificio quindi Renzo Piano di disegnare una borsa in collaborazione appunto con Max Mara le cui vendite in parte sarebbero andate a sostegno del progetto del museo Piano ha accettato di buon grado quella che per lui sembrava una sorta di sfida imperdibile e ha creato così una borsa celebrativa dedicata al trasferimento del Whitney Museum dall'Upper East Side al Meatpacking District una borsa ispirata alle linee dell'edificio e alla visione progettuale di Renzo Piano la cui creazione è stata giustificata da Maramotti con le seguenti testuali parole sono un fautore della teoria della creatività senza confini libera di essere non mi piace pensarla ghettizzata entro limiti territoriali e personalmente credo che in questa frase sia racchiuso esattamente tutto il messaggio di questo video altro esempio e credo di avervelo detto già in qualche altro video non ricordo quale però ma Gianfranco Ferré fu il primo stilista a portare l'architettura nella moda data appunto la sua laurea in architettura al Politecnico di Milano egli portò le sue percezioni estetiche le sue abilità progettuali alla loro massima espressività creativa con la camicia bianca un capo classico rielaborato e ripensato come struttura tridimensionale come volume proprio come se fosse un edificio in ultimo vorrei mostrarvi una collezione di Valentino che se non sbaglio risale a un paio di anni fa ovvero la collezione che porta il nome di si tratta di una splendida incredibile collezione di haute couture ispirata appunto all'antica Roma agli usi, ai costumi, alle credenze ma anche alle architetture costruite dai romani beh amici voglio concludere questo video con questo abito che per me è la sintesi, l'emblema di quanto i volumi progettati nell'alta moda siano accomunabili ai volumi architettonici in fatto di linee, concetti, giochi di colore e colpo d'occhio insomma amici la lista di esempi di contaminazione tra architettura e moda è decisamente più lunga di così e potrei continuare per ore ma mi fermerò qui perché con questi progetti di cui vi ho parlato credo abbiate capito perfettamente quale sia il succo del discorso architettura e moda sono due forme di design di arte se vogliamo l'architetto e lo stilista sono entrambi progettisti che da un'intuizione iniziano una ricerca uno studio da cui poi estrapolano un concetto ed è proprio dal concetto che infine prende forma il progetto progetto che può essere un edificio o un paio di scarpe ma in entrambi i casi si tratta di un'idea che si evolve e si esprime in un risultato formale e funzionale ben preciso e in più è un'idea che ha uno scopo abitativo nel caso dell'architettura del coprirsi nel caso della moda in entrambi i casi amici non si tratta altro che di arte che asserve ad una funzione e lo fa con un proprio stile ed una propria identità perciò la prossima volta che dite beh io non seguo la moda pensateci bene perché ammesso che sia vero e secondo me non lo è mai per una lunga serie di motivi il diavolo veste prata docet beh se dite di non seguire la moda vi state perdendo un mondo va bene gente io termino qui questa piccola suppostina e se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare sul pollicino in su perché sapere che apprezzate il mio lavoro mi svolta la giornata ve lo giuro io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video ciao